Dare sostegno alle imprese artigiane del Carnevale di Viareggio sui mercati dove la creatività può trovare spazio grazie all'elevato grado di competenze artistiche e artigiane dei maestri della cartapesta. Artigiani Digitali per la prima volta riunisce sette carristi in un progetto marketing, brand e comunicazione, catalogo online e piattaforma web. Un grande potenziale di sviluppo che oltre a valorizzare le capacità degli artigiani viareggini potrà avere positive ricadute su occupazione e economia. Tra i mercati di sbocco che potrebbero generare prospettive interessanti, commesse e fatturati ci sono settori quali la nautica, la moda, i grandi brand del food, allestimenti scenografici, fiere, arredo urbano ecc. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione degli artigiani maestri del Carnevale la nostra competenza in materia di innovazione e guidare questa nuova rete alla conquista di nuovi mercati. Con questo obiettivo nasce Artigiani Digitali del Carnevale, progetto del valore di 260.400 euro finanziato dalla regione per il 75%, curato da Navigo, società per innovazione e sviluppo della nautica. L'obiettivo di questo progetto è inserire tanta innovazione nella comunicazione, nel mercato e anche nella parte tecnologica. Possiamo fare un'operazione di trasferimento anche dal settore nautico, portare innovazione, portare una nuova prospettiva a questi artigiani. Utilizzare la struttura della cittadella, che è una struttura enorme, grande, bellissima, non soltanto per i mesi del Carnevale ma appunto tutto l'anno. E quindi questo crea maggiori introiti e questo naturalmente fa bene al Carnevale stesso poi, perché poi fa bene per i costruttori e fa bene a tutte le attività che sono dentro la cittadella. Le imprese partecipanti sono Avanzini, capofila del progetto, Alegrucci, Bertozzi, Ceragioli, Lombardi, Vannucci e Galli. È un progetto innovativo che chiedevamo da tempo e quindi è un altro passo in avanti per la categoria dei costruttori del Carnevale.